Allora innanzitutto ragazzi se a me non piace un giocatore sono liberissimo di dirlo come quando arrivò Correa io dissi prendiamo Turam infortunato ma lasciamo Correa alla Lazio e lo sapete tutti che io dissi questa cosa dove fui anche insultato dove addirittura all'acquisto di Correa gli interisti inventarono il ballo tucutucu come quando dissi Gosenz non va preso un giocatore tutto rotto nel calcio di Zaghi non ci fa nulla a noi serviva una punta ma prendono Gosenz perché lo pagavano dopo 18 mesi non perché ci serviva con Perisic miglior esterno del campionato l'inter prende Perisic perché non lo paga prende scusa Gosenz perché non lo paga anche lì tutti contro poi dopo Gosenz ha fatto 90 minuti una volta in due anni ed è il campo che parla chiaro ed è il campo che parla chiaro ieri in un contesto in un contesto di partita ottima da parte dell'Inter si è voluto mettere questo giocatore parlo di Taremi nella bella prestazione della squadra abbiamo sottolineato il fatto che Taremi ripiegava che faceva raddoppi che si impegnava ma dov'è il killer di cui avete parlato tutta l'estate anche al Monarca su YouTube cito anche il Monarca che già Monarca già ti ho sverniciato con Correa dove dicevi che era un fuorilasse fino all'anno scorso non l'ho mai citato il Monarca ma è uno che di calcio ci capisce Monarca ti ho sverniciato con Correa di Taremi addirittura dopo la mia e da te non me l'aspettavo caro Monarca dopo l'amichevole con il pizzichettone facesti un video giocatore ingiocabile è un fuorilasse non riuscendo a capire che nelle amichevoli ti marcano quattro metri e soprattutto cosa e te non sai Monarca perché il calcio l'hai studiato solamente sui libri nelle amichevoli ci si mette l'accordo mi raccomando niente contrasti non bisogna entrare duro e possibilmente marcate gli attaccanti ad un metro un metro e mezzo e quello si fa caro Monarca quindi ci sono delle prese di posizione da persone di YouTube di posizione strumentali ci sono delle prese di posizione strumentali mai oneste perché devono per ottenere dei consensi e lo c'erebbero chiunque e anche dopo amichevoli quando uno fa tre gol voi siete gli stessi che erogiavate Correa sono gli stessi che erogiavano il ritorno di Lukaku anche lì dove io ho presi fischi e insulti ma non me ne frega nulla potete anche disiscrivervi dal canale io mangio e dormo lo stesso io sono su YouTube per divertimento e per dire quello che penso tornando a questo grandissimo killer per daria che avete riscritto tutta l'estate che ora è diventato bravo in fase difensiva vi voglio fare una domanda lo mettiamo al centro campo Taremi allora lo mettiamo a fare la fase difensiva dov'è il killer instinct che avete riscritto tutta l'estate perché questo giocatore non è mai a parte l'amichevole alla sangra del prosciutto non è mai riuscito a tirare in porta pur incontrando squadre senza offesa ragazzi come il Lecce come il Genova e come il Monza non è mai riuscito a tirare in porta ieri in due contropiedi dove doveva puntare l'uomo e crearsi lo spazio per tirare in porta il signor Taremi rallenta il gioco e passa la palla dietro perché gli fremano le gambe ma lo elogiamo perché ha fatto un'ottima fase difensiva quindi Taremi lo abbiamo preso per fare la fase difensiva e non per fare gollo giusto gli diamo 4 milioni per fare i ripiegamenti e per fare i raddoppi in fase difensiva giusto? perché ieri se non era per Turami che teneva la squadra alta noi venivamo schiacciati saremmo stati schiacciati tornando a questo fuoriclasse dell'Iran che fino a 28 anni e mezzo giocava in Qatar con la palla di legno per divertimento con i suoi amici perché Taremi fino a 28 anni e mezzo giocava in Qatar con i suoi amici per divertimento perché veniva pagato una cavolata mi sembra che lavorasse anche dopo le partite Taremi questo grande killer d'aria che avete descritto voi tutta l'estate questo grandissimo killer che ora lo state esaltando per la grandissima fase difensiva che siete gli stessi e lo avete esaltato tutta l'estate per il killer instinct che ha sottoporta dove ripeto dopo Darko Panchev è il primo attaccante che vedo all'Inter che non riesce a tirare in porta in cinque partite quindi facciamo un suddo della situazione fino a 28 anni gioca e lavora in Qatar con degli amici va in Portogallo dove ha solo un anno con il botto ripeto il Portogallo è un campionato dove ad oggi gioca Mario fa 20 gol dove Hulk era un fenomeno dove Jackson Martinez faceva 50 gol e poi è sparito dove tantissimi giocatori erano fuori l'asse e fuori dal campionato portoghese hanno fatto schifo quindi Taremi ha una stagione al Porto dove fa 30 gol poi per il resto questo grandissimo bomber in 184 partite in Portogallo fa 90 gol in tre anni fa 10 gol in Champions League cosa vuol dire? Vuol dire che a parte l'anno dove ha fatto 30 gol questo giocatore in 142 partite ha fatto 50 gol e caro monarca dove dici sempre che i numeri contano o no? quindi anche te ora per i tuoi amici devi cercare dei consensi e stai parlando bene di un giocatore che sicuramente non ti piace conoscendoti ma hai bisogno dei consensi su Youtube caro monarca ma lo sai mi conosci bene a livello calcistico io te l'ho sempre detto te lo hai letto il calcio sui libri ma non lo hai mai giocato non lo hai mai respirato e si vede te e i tuoi amici che parlate bene ormai di qualsiasi cosa perché dovete ricevere dei consensi ti faccio anche pubblicità guarda monarca oggi quindi lo abbiamo preso per fare il lavoro sporco dietro o per fare gol perché ieri lui ha avuto l'occasione per crearsi spazio i due contropiedi ma ha appoggiato la palla indietro perché non se la sente nemmeno di tirare in porta quindi mi spiegate dov'è questo grandissimo killer io lo so che Diego ha giocato bene Taremi ma ha giocato bene in fase difensiva quante volte Turam è un giocatore che fa continuamente la doppia fase Turam è uno che crea gioco che finalizza che fa assist c'è chi lo sta paragonando a Turam ragazzi paragonare Taremi a Turam è bestemmiare Turam è un fuori classe Taremi è solo una buona terza quarta punta per una squadra come l'Inter però ve lo ripeto ve lo ripeto lo dobbiamo esaltare per le doti difensive Taremi oppure lo dobbiamo esaltare per come l'avete descritto tutta l'estate soprattutto dopo le due amichevoli dove ha fatto sfracelli contro pizzichettone Barmarisa perché io te lo dico io lo so che Taremi farà i suoi gol ma un attaccante che non riesce a tirare in porta a me preoccupa sinceramente perché forse non ha la personalità per riuscirsi a creare il tiro perché ieri hanno tirato in porta difensori centrocampisti esterni tutti tranne lui e anche quegli altri fanno la fase difensiva quindi la scusa che ha fatto la fase difensiva non conta perché si è trovato nella fase di attacco e hanno tirato in porta tutti tira in porta gente non dovrebbe tirare mentre lui che dovrebbe tirare non tira in porta il campo dice questo io sono liberissimo di dire se un giocatore mi fa cacare e a me Taremi mi fa cacare punto e basta io voglio bene all'Inter ma se un giocatore mi fa cacare mi fa cacare come quando mi faceva cacare Correa che veniva da un anno ottimo alla Lazio e lo dissi e dissi di prendere il tuo ramo infortunato e ti dico le stesse cose su Taremi poi il campo sarà quello che parla per ora il campo a me dice e non solo a me che questo giocatore non riesce nemmeno a tirare in porta però è bravo in fase difensiva quindi lo metteremo al centro campo va bene ciao Inter Inter